Il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Partito Democratico che esprime solidarietà gli studenti vittime di episodi di squadrismo e vicinanza al corpo scolastico. Sanità, sia l'abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni. La legge è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Presentato a Palazzo del Pegaso il progetto Fare Strada 2023, realizzato da Catto Cooperativa Sociale per coinvolgere ragazzi e ragazze attraverso musica, street art e riscoperta del territorio. Solidarietà agli studenti vittime degli episodi di squadrismo, ferma condanna degli atti di violenza e preoccupazione per il clima di odio che coinvolge gli istituti di istruzione secondare fiorentini. Così si è espresso il Consiglio regionale approvando la mozione presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. L'atto, che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, è stato approvato con 22 voti favorevoli e 4 astenuti del gruppo della Lega. Il gruppo di Fratelli d'Italia, che ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione, che è stata poi respinta dall'Aula, non ha partecipato al voto. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica, di stampo neofascista, quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo, quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Chiediamo anche ai due ministeri, quello dell'interno e quello della pubblica istruzione e del merito di intervenire perché sia garantita l'incolumità nelle scuole. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale. Ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti, intervenuto al corpo docente. Ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea. Sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo. È una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo. Però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave. Dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengono più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere, qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni. Aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. La violenza si condanna sempre, senza se e senza madda, a qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo. In realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si reggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti. Dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa, a chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime, dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco nell'atto del Partito di Maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ce la siamo sentiti di votare i contrari. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola. Faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le loro forze politiche e lo sappiamo non la loro responsabilità. È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana la legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza, ad illustrarla il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, che ha spiegato come essa si inserisca tra gli obiettivi della semplificazione delle procedure amministrative e come la richiesta di tale certificazione non sia supportato da motivazioni scientifiche. Su questo ci sono due passaggi importanti, uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura agli inizi degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia, la scienza ormai è evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia e quindi il certificato dopo cinque giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza dal punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi, questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie e quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei cinque giorni dopo cinque giorni di assenza. Quindi per un principio di semplificazione dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Una storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della commissione sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la regione toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo cinque giorni di assenza senza certificati medici e senza un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di visita ovviamente dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normativi di carattere regionale. Credo che sia in linea con il cambio della medicina perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della commissione è obsoleto, infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Musica, street art, giocolerie riscoperta del territorio. Questo è il mix vincente del progetto di animazione sociale Fare Strada 2023, rivolta ai giovani del territorio di Calenzano che è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Come ricordato nel corso della conferenza stampa, il progetto vincitore del bando Rigenerazione Toscana del Comune di Calenzano realizzato da CAT Cooperativa Sociale ed in programma fino a novembre 2023 all'obiettivo di rendere direttamente partecipi i giovani nella vita sociale e culturale del territorio calenzanese partendo dalle loro proposte e dall'ascolto dei loro bisogni. Un'iniziativa che noi abbiamo voluto con forza per porre i giovani al centro della nostra azione e lo abbiamo fatto attraverso diverse iniziative. Oggi sono felice di poter presentare la prima di queste iniziative fatta dal Comune di Calenzano in modo per coinvolgere i giovani attraverso la street art, la musica, la giocoleria un modo davvero per cercare di rigenerare i nostri territori. La rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo portato avanti con forza in questi anni e legare l'impegno dei giovani con la rigenerazione urbana e lo sguardo che noi vogliamo portare sulla Toscana del futuro. Un progetto che partirà la prossima settimana è un progetto rivolto ai nostri ragazzi, ai ragazzi di Calenzano, agli adolescenti. Un progetto che vuole vederli e renderli protagonisti. In questi anni, come sappiamo, i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno purtroppo respirato un'aria che non era per loro, sono stati chiusi in casa, hanno dovuto subire anche cose più grandi di loro. Con questo progetto noi vogliamo riportarli nei luoghi d'aggregazione e vogliamo davvero renderli protagonisti attraverso la street art, attraverso la conoscenza del territorio e anche attraverso momenti liberi dove loro ci potranno indicare come vorranno passare il tempo insieme. Siamo felicissimi di aver recepito il finanziamento della Regione Toscana e di aver chiaramente sposato le linee che la Regione Toscana insieme a Comuni porta avanti per l'aggregazione giovanile e per dare assolutamente degli spazi di aggregazione e di stare insieme. Il dettaglio è che andremo nel territorio di Calenzano a cercare i gruppi giovanili, i ragazzi e le ragazze che passano il loro tempo sul territorio e li ascolteremo soprattutto. Cercheremo di capire quali sono gli interessi dei ragazzi, quali sono i loro desideri e in qualche modo cercheremo di tradurli assieme a loro in cose pratiche. Diciamo che poi faremo anche delle proposte che riguardano un po' le discipline dell'hip hop che tanto vanno tra i ragazzi per cui si parla di rap, di graffiti, di street art e poi musica in generale.